questa settimana stevani obetic è il protagonista di inter nos scrivi le tue domande a io io via mail a inter channel chiocciola inter punto it via sms whatsapp al 342 721 0185 o via twitter a chiocciola inter underscore channel è da un po che non gioco partite di seguito e sicuramente che con il tempo migliorerà la mia condizione fisica però un inizio buono sicuramente che lo me lo aspettavo però così buono forse anche no giovedì sera alle 21 iovetic risponderà a voi tifosi solo su inter channel